Ecco a voi cari ragazzi il video unboxing del nuovo Samsung Galaxy Note 5 io ve l'avevo detto che non si potreva resistere quindi ho acquistato la versione oro chiaramente la confronteremo anche con S6 Edge Plus e bentornati a mia compagnia Ecco a voi cari ragazzi il Galaxy Note 5 in tutto il suo splendore questa è la versione non dual sim ma in mono sim versione targata C insomma per i più geek e per i più nerd sanno già di cosa sto parlando ovviamente è ancora non disponibile nel nostro bel paese però eccolo qua all'interno del canale YouTube di Guertz86 davvero un terminale che vi potrà sorprendere perché proprio tenere in mano questo smartphone è completamente differente seppur comunque avendo una filosofia molto simile alla serie S6 Edge Plus però davvero due telefoni che non si assomigliano per niente poi insomma lo andremo a capire meglio all'interno della video recensione completa che arriverà all'interno del canale spilletta per rimuovere il vano e la sim un libretto di istruzioni poi troviamo il caricabatterie che non è in formato europeo caricabatterie ultra rapido per caricare il nostro Note 5 ci vorrà obiettivamente un adattatore che andrò a comprare nella grande distribuzione poi troviamo l'accessorio per andare a rimuovere la penna meglio la punta del nostro pennino gli auricolari in iar e poi il cavetto che è USB micro USB classico quindi non abbiamo il type C davvero un terminale bellissimo terminale premium non ho più parole per descrivere già dal primo impatto è un dispositivo assolutamente premium un dispositivo che davvero potrebbe primeggiare come è sempre stato nella categoria phablet per il momento ragazzi è veramente tutto noi come sempre ci sentiamo all'interno del box dei commenti oppure le recensioni di Wers86 su Facebook